Yamaha ha fatto 13 al Salone di Milano. Tante sono infatti le novità che troviamo allo stand della casa giapponese. Partendo dalla famiglia MT, Aikma 2013 debutta una versione ancor più cattiva della MT-09, denominata Street Rally, oltre a una nuova entry-level, la bicilindrica MT-07. La SR400 è presentata in versione rivista per festeggiare i suoi 35 anni. Oltre a tre modelli hard-built dal sicuro fascino, allo stand Yamaha è possibile ammirare anche il nuovo XT1200ZE Super Tenere, che a Milano porta in dote nuove sospensioni regolabili elettronicamente. Passando agli scooter, Yamaha porta al debutto qui a Milano il primo tre ruote della storia della casa di Iwata, il concept model Tri-City, mentre i nuovi X-Max 125 e 250 si rinnovano totalmente, al contrario del top di gamma il T-Max, che si presenta a Milano in versione Bronze Max.